Salve a tutti, sono il dottore Francesco Garitano, sono un biologo nutrizionista e anche quest'anno sarò relatore alla scuola di alta formazione che è arrivata alla quinta edizione, una scuola che sta diventando sempre negli anni sempre più importante e nella mia relazione di quest'anno continuerò a parlare di fibromialgia, visto che ormai sono anni che mi occupo di fibromialgia, mi occupo di problematiche infiammatorie e problematiche autoimmuni e quest'anno ancora di più sono uscito con un libro sulla fibromialgia e quindi ancora di più in questa lezione che terrò nella scuola di alta formazione, sviscererò meglio tutti i meccanismi che sono alla base di questa sindrome fibromialgica che è una sindrome molto molto invalidante e quindi spero che riusciremo a fare un po' di rumore anche a livello mediatico per farla anche riconoscere e spero in questa scuola di alta formazione, perché ripeto spesso abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno di molta formazione soprattutto in ambito sanitario per poter trattare al meglio e far vivere al meglio i pazienti con affetti da fibromialgia. Salve!